Bella ragazzi, eccoci con Kistar Ray, l'ultima volta abbiamo visto un po' come calcolarci la difesa di Aventurin, quanta ne vogliamo, un po' che light con possiamo usare, eccetera eccetera. Oggi rivediamo velocemente il discorso difesa e poi parliamo anche di build, speed, team velocemente, ok? Quindi trattiamo un po' più nel dettaglio Aventurin eventualmente. Iniziamo subito, quindi abbiamo tre modi di generare lo shield con Aventurin. Il primo è chiaramente la skill, che ha uno scaling col 24% della sua difesa più un valore flat e dura tre turni. Il talento, che è il suo follow up attack chiaramente, che dà uno shield piccolino, 7% di difesa più 96, ma che stacca con quello della skill e resetta la durata di quello della skill. Quindi praticamente quei tre turni in realtà di scudi sono infiniti perché follow up attack ne facciamo ben più di uno ogni turno di Aventurin, diciamo. Comunque ogni turno anche i nostri DPS e poi abbiamo chiaramente l'ascensione 4, che ci dà lo stesso scudo che ci dà la skill a inizio battaglia. Il che in alcune situazioni implica che noi praticamente possiamo anche quasi non skillare mai con Aventurin, ma non è quello che assumiamo. Solitamente già ragioniamo sul fatto che una skill ogni tre turni di Aventurin la facciamo, ok? Quindi questo è come disegneriamo gli scudi di Aventurin. Ora, tenendo in considerazione che 4.000 di difesa sono 48% di click trade, questa attenzione è importante per chi vuole un Aventurin che faccia un minimo di danni, sia in team follow up attack che in generale, ok? Soprattutto in team follow up attack, però in realtà i 4.000 di difesa sono molto buoni da raggiungere per la quantità di scudi che dà Aventurin, di tutti gli scudi che dà, ok? Quindi vi ho messo qua una tabellina di alcuni valori di difesa abbastanza interessanti da raggiungere con quanto scudo prendiamo. Quindi abbiamo 3.000 di difesa, 3.500, 3.800, 4.000, 4.200. Quanto scudo prendiamo con la skill, quanto ne prendiamo con il follow up attack, questi sono tutti scudi ad area che vanno tutti, attenzione. E poi quanto ne prendiamo con una skill più 2 follow up attack e come questi scudi cambiano poi con il 4 per il set del knight, ok? Quindi vedete già che con 4.000 di difesa, Aventurin con la skill ci dà 1.500 di scudo, che è praticamente quasi metavite, i tu tipici che abbiamo DPS praticamente. Ricordate che poi la skill può staccare massimo due volte, quindi può arrivare a 3.000 praticamente di scudo, che è tantissimo, ok? Ed è una cosa che continua a staccare, a refreshare con follow up attack, skill, follow up attack, eccetera, 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 ok? Quindi questi sono più o meno i valori di scudi che prendete per alcuni, alcuni valori di difesa, insomma, magari potevano essere interessanti da vedere, visto che ho visto diversi Aventurin che avete preparato e alcuni dicono, ok, io ho 3.500, 3.800, 4.000 o 4.200, poi se avete sopra i 4.200 ragazzi, cioè va bene, ok? Nel senso, direi che ne avete più che abbastanza, insomma, se superate questi valori qua siete sicuramente a posto, 3.000 secondo me è ancora pochino e dovete tirarlo su, dovete migliorare Aventurin, ok? Però dai 3.500 in su, 3.600 in su, a mio parere, già può andare bene nella maggior parte dei casi, anche in situazioni offensive e vediamo dopo perché. Come dicevo qui, la durata viene resettata, quindi queste sono cose che abbiamo già detto e che vi ho appena detto. E la cosa interessante da tenere in considerazione, anche quando parliamo di rotazioni dopo, la technique ci dà dai 24 ai 60 di difesa in base a come la rolliamo. Ovviamente nel G, in Pure Fiction e Memory of Chaos, noi rolleremo più spesso la technique per ottenere il 60% e se non lo otteniamo, resettiamo, ok? Se chi lo fa, se chi non lo fa, io lo farò, sicuramente, ok? Cioè, purtroppo è una tecnica RNG, ma essendo che sia in Pure Fiction che in Memory of Chaos possiamo resettare e riprovare finché non becchiamo il 60%, lo faccio, balla, ok? Non c'è problemi. Il fatto è che questa difesa percentuale che dà dura 3 turni, ok? E questi 3 turni, se Aventurin è buildato non necessariamente troppo veloce, sono 2-3 cycle interi. E quindi è una difesa importante che possiamo considerare nel calcolo che abbiamo fatto qui, ok? Quindi faccio un esempio, se avete 3.700 di difesa e avete il 60% di difesa in più della technique e quindi così cappate il crit rate, potrebbe non essere una brutta idea considerarlo. Per magari ottimizzare il crit, ottimizzare, non so, altre substati, pezzi, eccetera, eccetera, considerando anche la difesa della technique. Attenzione che, ovviamente, più Aventurin è veloce e più i turni di questa technique scendono velocemente, ok? Che è il motivo per cui poi dovete stare attenti quando scegliete tra un Aventurin veloce e un Aventurin lento. Parlando di Aventurin veloce e Aventurin lento, chiaramente abbiamo diverse build ed opzioni, il Knight of Purity Palace è la miglior scelta sia in 2x che in 4x, ci dà difesa, ci aumenta gli scudi, best in slot in assoluto. Sia a livello difensivo che poi in realtà per aiutarci con la difesa a livello offensivo per il crit rate, non ho nel senso. In realtà il Pioneer a livello offensivo è buono ma non ci aiuta con la def, quindi in realtà se avete un Pioneer 4x con le stat che vuole Aventurin potete tranquillamente usarlo, ma in generale potete usare una coppia di 2x di diversi set, c'è il follow up attack, c'è il set speed se lo state buildando speed, c'è il Pioneer, c'è quello imaginary, c'è il Knight, insomma potete usare diverse combinazioni di 2x, come sapete l'unica cosa importante è stat maggiore set, ok? Se avete le stat belle per me potete usare anche 4 pezzi totalmente a caso, basta che raggiungete le stat che vi interessano, ok? Ovviamente se mirate ad avere più scudi e volete un Aventurin totalmente dedicato alla difesa, il Knight è sempre la migliore opzione, ok? Però farmare il Knight non è il massimo, quindi vedete voi, ok? Se volete andare di craft o se vi volete arrangiare, vedete un po' voi come siete messi, ok? Quindi per quanto riguarda i pezzi da usare sono questi, per i Planner abbiamo bene o male 3 scelte, abbiamo il Broken Kill che secondo me è sempre la migliore perché aumenta sia i danni di Aventurin con il Crit Damage, sia quelli degli Alleati, quindi per me è sempre l'opzione migliore, soprattutto in follow up attacco dove giochiamo due DPS Il Panacony, 5% di Energy Regen ci sono degli spot dove può tornare utile, ma in generale se giochiamo con DPS Immaginare è ok, quindi se giocate con Invibitor, se giocate con Rati, insomma potrebbe essere ok se ce l'avete senza problemi Il Star Sotto aumenta semplicemente i danni personali di Aventurin, quindi è un po' una versione un po' più scarsa del Broken Kill perché non aiuta gli Alleati, aiuta solo se stesso, però ha tutte le stat che vuole Aventurin Quindi se avete un buon Sal Sotto da dargli con le stat che vuole lui, quindi rope difesa, planarimagine eccetera eccetera, potete tranquillamente dargli Sal Sotto ok Comunque per quanto riguarda i stat quindi sono questi due, per le stat ora ci arriviamo, allora per ottimizzare i danni di Aventurin vogliamo Body Crit Damage Ok lui prende 50% di Crit Rate, Body Crit Damage è la prima cosa che ci viene in mente, attenzione però che se volete un Aventurin più difensivo o semplicemente con la difesa non ci arrivate a raggiungere i 3600-4000 Il Body potete metterlo difesa, ok? Non cambierei mai il Planner, il Planner lo terrei sempre Imaginary nel caso stiate giocando un Aventurin che vuole fare un po' di danni un po' più offensivo E metterei sempre il Body difesa piuttosto del Planner, ci ritorniamo dopo su questo argomento qui Le Scarpe difesa sono l'opzione migliore, anche se volete giocare gli Speed su Aventurin consiglio comunque Scarpe difesa per andare di Speed in Substat Però Scarpe Speed in generale se volete giocare un Aventurin totalmente difensivo fate Scarpe Speed e Tripla Stat e difesa di Main Stat, ok? Quindi se volete giocare semplicemente non vi interessa che Aventurin faccia danni, lo volete solo per gli Scudi e volete ottimizzare i suoi Scudi Body difesa, Scarpe Speed, Planner difesa, Rope difesa, ok? Cioè proprio diretto così, assolutamente Quindi sì, le Scarpe Speed le metterei solo se ti interessa Aventurin solo per gli Scudi e tutto il resto con Main Stat difesa, ok? Questo direi che è l'unico spot dove giocherai le Scarpe Speed, altrimenti in tutti gli altri spot giocherai Scarpe difesa E se volete un po' di Speed andrei di Substat Si sente tanto avere le Scarpe difesa sia a livello di Crit Rate poiché accumula, sia a livello di Scudi, eccetera eccetera E soprattutto perché giochiamo Planner Imaginary nella maggior parte dei casi, ok? Quindi o Body Crit Damage, insomma quello che è Come dicevo prima, Planner Imaginary è il pezzo più importante per i suoi danni personali Ma se giochiamo la build che vi ho detto prima con Scarpe Speed, Speed e difesa Chiaramente potete metterlo senza problemi, ok? Per quanto riguarda il Body Crit Damage contro Planner Imaginary Quindi in generale a prescindere dalla Light Con che usate, ok? Poi con la sua Signature questo vale ancora di più chiaramente Ma anche senza, anche con Day 1 of My New Life ad esempio Il Planner Imaginary risulta sempre un 10% meglio in danni del Body Crit Damage Quindi se, vi faccio un esempio, se non raggiungete i 4.000 di difesa Esempio, ok? E avete Body Crit Damage e Planner Imaginary E dite, ok, devo mettere una Main Stat d'Eff in più Mettetela sul Body invece che sul Planner Cioè tenete Planner Imaginary e mettete Body Difesa Se invece ci arrivate con le Sub Stat eccetera eccetera Terrei Body Crit Damage e Planner Imaginary A prescindere Altra cosa, state attenti Se state giocando a Venturi lento con Scarpe Difesa Tenete in considerazione che la Technic vi dà un bel po' di difesa Quindi tenetela in considerazione nel calcolo della difesa Di cui abbiamo parlato nello scorso video, ok? È abbastanza importante Quindi se avete Body Crit Damage, Planner Imaginary E che ne so, ad esempio avete 3.700 di difesa Io non cambierei nessuno dei due, ok? Avete la Technic che vi aiuta a raggiungere quei 4.000 Dura 3 turni Nel caso di una Venturi in lento 3 turni sono 3 cycle, ok? Quindi attenzione che Non necessariamente a Venturi in deve raggiungere flat 4.000 di difesa Tenete in considerazione la Technic Questo è importante E se giocate a Venturi in veloce Però invece Mirate alla difesa La Rope di difesa è sempre la scelta migliore La Rope Energy Regen Allora Cambia quanto fai prima la ulti Ma non cambia quante ulti fai nel giro di 4 cycle Nel giro di 4 cycle La Venturi fa bene o male 2 ulti Qualcosa del genere Forse 3 nell'ultimo Nel quarto cycle, ok? Ma in generale ne fa quasi sempre 2 E tecnicamente non cambia neanche Per quanto tempo stop sui nemici Quante Energy Regen gli dai Quindi in realtà Meglio Rope di difesa Cioè fa poca differenza Il kit di Aventurin Si basa veramente poco Solo sull'ultimate D'altronde C'è anche il discorso che le blind bet E le bet che ci dà sul follow up attack Sull'ultimate Sono random da 1 a 7 Quindi non è neanche una cosa che dici Voglio farla per il follow up attack E' più per il debuff Ma a prescindere Non opterei per Rope Energy Regen In nessun caso Che andare di Rope di difesa Onestamente Poi Vedremo Magari vi trovate bene Non la voglio escludere Non la voglio escludere totalmente Però Rope difesa Vi aiuta troppo Sia per raggiungere la difesa Che vuole lui Per aumentare gli scudi L'Energy Regen Diciamo che la ultima È la cosa che ci interessa Di più del suo kit Sicuramente Ok Per quanto riguarda Speed e rotazione Questo è molto interessante Si collega un po' Al discorso che abbiamo appena fatto L'Energy Regen Allora È quasi impossibile Fare una rotazione con Aventurin E alcuni di voi mi hanno chiesto Ma com'è rotazione E energia È impossibile Ok 1 Perché la ultimate Ci dà blind bet A caso 2 Dipende da quanti follow up Attacca abbiamo in team 3 Dipende dalla speed Da Aventurin 4 Dipende da quanti Hit riceviamo Ok Cioè È super RNG Ok Ma comunque In media Con Aventurin Ogni Una skill E due attacchi base Abbiamo una ultimate A patto che facciamo Tot follow up Attacca A patto che riceviamo Degli attacchi Ma solitamente In tre azioni È tutto regolare Ok E qui ho messo una tabella Dove Vedete Nella prima Nella prima colonna qui Quanta energy Regenera Semplicemente L'abilità O quello che sta succedendo Nella seconda colonna Vedete A quanta energy Totale siamo arrivati E nella terza Vedete A quanta energy Totale siamo arrivati Ma con Rope Energy Con Rope Energy Regen Per farmi notare una cosa Ok Quindi abbiamo una salutazione Abbiamo la prima ultimate Che facciamo Attacco base Follow up attack Skill Follow up attack Attacco base Follow up attack Che poi c'è un numero Di hit ricevute Interazioni Che sicuramente riceve Perché è preservation Ok Che ci rigenerano In media Dai 5 ai 10 di energy Quindi abbiamo Rotondato a 7 E E quelli Si sentiranno tantissimo Ma ci sono quelle hit Cioè ce ne sono anche tante In realtà Quindi Se voi vedete La nostra rotazione Interazione Arriviamo a 96 Lui c'ha 110 di energy Ok Arriviamo a 96 Senza energy regen Ma senza contarle hit Ricevute O un quarto Follow up attack Perché probabilmente Siamo in team con topaz O siamo in team Con un follow up attack Qui non facciamo 3 follow up attack Ne facciamo 4 Ne facciamo 5 Dipende anche in base A quanti c'è andati L'ultimate Dipende da quanti attacchi Riceve lui rispetto al team È troppo random Ok E sono 7 di energy Ogni follow up attack Quindi è veramente Difficile calcolare Ma sta di fatto che Nel 99% dei casi Ogni tre azioni Senza ropa energy regen Facciamo l'ultimate Nel 100% dei casi Ogni tre azioni Con energy regen Fai l'ultimate Ma non cambia Veramente niente Ok Cioè nel giro Di 4 cycle Aver la ropa Energy regen Non vi fa Veramente differenza Il problema È che calcolare Una rotazione di event Non è troppo random Ragazzi Sono troppi fattori RNG L'ultimate RNG Le hit ricevute Sono RNG Il team che hai RNG Perché non sai Quanti follow up Attacca in team Quindi cambia Da team a team È veramente impossibile Cercare di fare qualcosa D'altronde È un gambler Quindi Ha senso direi No? Però A prescindere dal discorso Ropa energy regen Rotazioni Ci sono tre tipi di event In che possiamo giocare Il primo è il classico 134 più speed Che Ok Potete tranquillamente farlo Vi fa 6 azioni In 4 cycle E quindi Vi dà un possibile Skill point extra A cycle 0 Poi in realtà Anche a cycle 3 Quindi magari per team Se giocate con dps Che richiedono più skill point Magari Non lo so Magari anche un imbibitor Magari una chinshue Non lo so Comunque se Se giocate un team Che richiede un po' più skill point Magari perché c'è anche Brony in team Non ne dà 134 più speed di aventurine Potrebbe tornare comodo E se giocate con Roamai in team 124 Vi basta Perché poi Roamai vi fa arrivare a 134 Ok Vi basta 123 in realtà Non 124 Però Vabbè È giusto per arrotondare Con 121 speed Fate 5 azioni in 4 cycle E prendete uno skill point extra A cycle 1 Che ci sta E con 112 Fate sempre 5 azioni in 4 cycle La differenza è che Lo skill point extra Non lo prendete a cycle 1 Ma lo prendete a cycle 3 E Il discorso è che Meno speed avete E più stat crit avete Ok Quindi più offensivo Volete giocare aventurine Secondo me Da mio parere È più lento Potete giocarlo anche Offensivo veloce È un discorso semplicemente Dove sono locate Le vostre stat E come sono locate Ok È tutto qua Cioè È un po' Dovete vedere un po' In base ai pazzi che avete Come volete giocarlo Se volete giocarlo puramente difensivo Puramente shield Andai sempre per la versione veloce 134 o più Ok Però questo sicuramente Ora Una cosa interessante da capire Quella che vi ho detto prima Questo è Quante cose di aventurine fate Prima di raggiungere la sua prima ultimate In base alle speed che avete Vedete che 121 e 112 sono uguali 134 però Lo fate tutto in cycle 0 Ora Attenzione a una cosa Ok Per chi Per chi lo gioca È molto offensivo Quindi molto crit Ma comunque Dove vuole raggiungere I suoi 4000 di difesa Qui dovete imparare a capire Che dovete sfruttare la technique Cosa significa? Che Con la technique attiva Vedete che quando guardiamo La speed a 121 a 112 Qui la technique attiva Fino al cycle 2 Cioè qui non lo vedete Vi ho messo solo i primi due cycle Ok Ma qui La technique attiva Per i vostri primi tre turni Quindi Tutti i follow up attack Che fa partire aventurine In tre turni Hanno la difesa aumentata E quindi hanno Il crit rate massimo Se vi manca difesa Ok Quindi Praticamente Più è lento aventurine E più sfruttata La sua technique ovviamente E a cosa serve Semplicemente per raggiungere Poi il crit rate E shieldare di più Con il follow up attack E con la skill Chiaramente Mentre al 134 La technique la perdete Chiaramente a cycle 1 Perché fate due azioni A cycle 0 Vedete qua abbiamo Attacco base 1 Attacco base 2 A cycle 0 Mentre la versione A 121 speed A 112 Abbiamo Il primo attacco base A cycle 0 Il secondo A cycle 1 E avanti così No ok Per lo giocato più offensivo Volete sfruttare molto di più La sua technique Quindi Ehm È un po' È giusto per farvi capire Un attimo Cosa potete tenere in considerazione Di sfruttare al meglio Il suo kit Compresa quella technique Che ci dà un sacco di difesa Ok Per raggiungere magari Un valore di death Che non raggiungevamo prima Poi magari raga La maggior parte dei casi Non è nemmeno vero Perché è probabile Che raggiungete 4000 di difesa A prescindere ok Anche con tutto il crit Che volete build Eccetera 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 Quindi magari È solamente per chi Non riesce a raggiungere Quei valori di difesa E deve Sfruttare la technique Se fate aventure in lento La sfruttate molto bene Ok Quindi questa era una nota Che volevo far vedere Tutto qui Allora 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 Ultimo Ma non per importanza Parliamo un attimo Delle sinergie Chiaramente Allora abbiamo tre cose Importanti con aventure In uno Sono gli scudi Che praticamente Sono infiniti A livello di durata Perché ogni volta Che facciamo un follow up attack Vengono rifresciati Abbiamo i follow up attack E abbiamo i debuff Allora avere degli scudi Di durata infinita Chiaramente È una cosa ottima Per i meko Perché i meko Vuole stare sopra L'80% di hp Per prendere 15% Di crit rate Quindi è molto bene Chiaramente Arlan e Yanshing Sono due personaggi Che non vogliono venire colpiti O se vengono colpiti Muoiono E quindi Li abilita un attimo A giocarli Chiaramente Non so Vedete voi Insomma Più probabile che magari Riesci ad abilitarvi Yanshing Non so quanti di voi Giochino Arlan Però se volete provarli Sicuramente È ottimo È il migliore Da giocare con loro Clara Anche a livello di scudi È ottimo Perché Clara Vuole essere Perennemente colpita Aventurin Mette scudi Effettivamente Ad aria Gratuitamente Facilmente Clara Fa follow up attack Quindi scomba Anche con la passiva Di aventurin Di guadagnare Del blind Bet ogni follow up attack E inoltre Lei non prende danno Insomma L'altra cosa positiva È che Aventurin Non aumenta L'aggro Ovvero le possibilità Di venire attaccato Quindi Clara Con la sua ultimate Effettivamente Anche l'aggro Aumentato Che vuole Ok Eccetera 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 Quindi È un po' Eh Si sta È una bella In generale È una bella sinergia E poi in realtà Tutti i personaggi Dell'ant Stando bene con Aventurin Anche perché Solitamente i personaggi E l'ant Con Gepardo Ad esempio Il problema era Che lo scudo Più attaccavi E prima si toglieva Ma con Aventurin In realtà Questo problema Non esiste più Perché appunto La durata Viene raffresciata Quindi Tutti i personaggi Dell'ant Stanno molto bene Per quanto riguarda Le sinergie Follow up attack È molto semplice PG che fa follow up attack Fa guadagnare più blind Ad Aventurin E quindi abbiamo Quattro personaggi Che sicuramente Fanno questa cosa Tremendamente bene E sono loro quattro In pure fiction Ovviamente Aerta è fuori di testa Anche ok Però Vedete voi E E per quanto riguarda I debuff Allora ci sono due cose Debuff Aventurin Li mette in Tre modi Volendo Uno è La sua ultimate Che però Come avete visto Non è così Frequente Quindi vabbè Non la terrei troppo In considerazione E Il secondo modo È la sua light Con volendo E il terzo È la light Con trend Of the universal market Quindi Effettivamente abbiamo Due light Con che ci fanno mettere Debuff Con costanza Con Aventurin In più La sua ultimate E il discorso Debuff Si applica bene Sicuramente Giocando con Acheron Giocando con Ratio Che sono due personaggi Che vogliono O applicazioni Debuff O presenza Debuff Poi potrebbe stare bene Anche con Invivitor In caso Invivitor Giochi Uniti Ma Aventurin A livello difensivo Magari Gli unici Che non vogliono Veramente Aventurin Sono Direi Blade Jing Liu Forse Però in realtà Forse Jing Liu Non gliene frega Neanche niente Più Blade Magari Ma per il resto Direi che tutti i personaggi Stanno molto bene con lui Questi sono solamente I personaggi Che secondo me Sinergizzano meglio Con lui Poi ovviamente A livello di buffer È chiaro C'è Ruan Mei Che gioca molto bene Con lui Insomma Però Mi interessa più Far vedere lui Come personaggio Difensivo In sinergia Con dei DPS Piuttosto che lui Come personaggio Offensivo In sinergia Con dei supporti Ok Quindi questa era un po' La mia priorità Devo essere onesto Per quanto riguarda Invece Tutto quello Che abbiamo detto Ok adesso vedo Se riesco Spostarmi Spostarmi Un attimo qui Allora Vi comunico Che abbiamo No abbiamo Stiamo aggiornando Totalmente Le grafiche Che faccio Per le build Dei personaggi Che trovate come sempre Su Twitch Su Discord Questo è un lavoro Che ci prenderà Tanto tempo Tanto tempo Perché Volevamo fare Un update grafico Ok Dopo che abbiamo iniziato Il video sulla lore La grafica Si è evoluta Un bel po' E ci piace E ovviamente Volevamo aggiornare Anche la grafica Dei personaggi In modo che fosse Più immediata E ci fossero Tutte le informazioni utili Che non ci sono in gioco Ovviamente Su come buildare I personaggi Con chi giocarli Le light Eccetera Eccetera Quindi Questo è un esempio Di una delle grafiche nuove Ed è validissima Con quello che abbiamo detto prima Ed è quella di aventurine Insomma Quindi Se qualcuno Se la vuole guardare Ve la metto qui E niente Fatemi sapere Cosa ne pensate Sia di aventurine Che delle grafiche nuove Io vi ringrazio Come sempre E noi ci vediamo Al prossimo video O alla prossima live Grazie di guardare a tutti Per il supporto Alla prossima Bella Ciao 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 Ciao